Ciao ragazzi, ciao a tutti, viviamo insieme questi ultimi minuti di Cremonese-Milan, incredibilmente siamo al novantesimo, risultato ancora inchiodato sullo 0-0 nonostante le tante occasioni nel primo tempo, soprattutto nella ripresa invece un Milan che ha creato davvero poco e Stefano Pioli ha provato a cambiare, ha messo dentro Raffaleau ma non sembra nella serata giusta, Raffaleau fino a questo momento, l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero, li vivremo insieme sperando che il Milan possa sbloccare il risultato perché è troppo importante per il Milan vincere questa partita, pensate che il Napoli in questo momento è a più 8 in classifica al primo posto, quindi in questi 5 minuti deve succedere qualcosa, il Milan deve provare a vincere questa partita, vedremo, racconteremo insieme queste ultime battute ma sinceramente un Milan che non può arrivare, ora siamo al novantesimo e 50 secondi, ancora sullo 0-0 contro la Cremonese con tutto il rispetto della Cremonese che è una squadra comunque che ci sta mettendo tanto, però ecco il Milan deve provare a fare qualcosa in più, deve provare e deve cercare sicuramente di sbloccare il risultato prima, c'è ora un contatto in area di rigore su Messias, l'arbitro non ha fischiato, probabilmente ci sarà un check, vedremo, ora racconteremo tutto in diretta se ci sarà questo episodio sottovalutazione da parte della terna arbitraria da parte dell'arbitro. Nel frattempo diciamo che il Milan si è presentato qui all'Ozzini di Cremona con dei cambi importanti, Cio, o meglio anche Ciao, il difensore ex, il difensore, stavo guardando l'occasione ma in realtà non hanno dato nulla, quindi si continua a giocare, 92esimo in questo momento, quindi nessun rigore su Junior Messias. Dicevo che Cio è stato schierato a sorpresa dal primo minuto da Stefano Pioli, quindi esordio per il giocatore acquistato dal Milan in estate e ha giocato nel ruolo di terzino, ha giocato il ruolo di terzino destro, o meglio è stato inserito, attenzione qui c'è un fallo, un brutto fallo di De Ketelare, ha gamba abbastanza alta, ha rischiato tanto il giocatore belga ha preso un cartellino giallo. Dicevamo difesa 3, difesa 3 con Malik Ciao, Kier e Tomori, poi Pioli ha schierato Messias e Ballotture sulla linea di Tonali e Benasser a centrocampo, trequartista Brain Diaz in attacco Origi e Rebic. In effetti nel primo tempo ci sono state delle occasioni, ma anche in questo caso il Mian difetta nel trovare il gol. Delle opportunità ci sono state con un tiro di Ibrahim, un altro ciccato da Rebic con la palla che è passata davanti, una conclusione soprattutto di Origi che si è fatto parare questo tiro da Carnesecchi a tu per tu con il portiere della Cremonese e poi un'altra grande chance anche per la testa di Ciao, lì è stato ancora bravo il portiere Carnesecchi. Siamo arrivati al 93,45 secondi, manca poco più di un minuto alla fine di questa partita, purtroppo ancora 0-0, sembra incredibile, sembra una maledizione. Milan che poi nella ripresa ha messo dentro Kalulu, ha messo dentro Leao, ha messo dentro De Ketelare, ha tolto appunto Malik Ciao, ha tolto Rebic, Origi, ma fino ad ora il risultato non cambia. È entrato anche Krunic al posto di Tonali e addirittura Lazetic, anche per lui esordio questa sera. Non lo so, probabilmente dei cambi eccessivi da parte di Stefano Pioli. Questa partita comunque può costare caro, il Mian in trasferta quest'anno sta facendo davvero tanta difficoltà a vincere, a segnare. Non ci dimentichiamo che il Mian è il reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Torino e poi ha vinto in casa sia con lo Spezia che con il Salisburgo e ora in trasferta sta pareggiando ancora per 0-0. Vediamo, ultima occasione, ultima chance per il Milan. Siamo al 95esimo, la Cremonese si difende, c'è Kalulu che tiene palla, si temporeggia un po' troppo al centro campo, bisogna buttarla lì davanti. Vediamo cosa succede, Messias sulla trequarti, c'è Benasser che prova a servire Lazetic, ancora Lazetic che si gira in area di rigore e il tiro alto sopra la traversa. E mi sa che su questa occasione, mi sa che su questa occasione di Lazetic il Milan è finisce qua. No, no, non è ancora finita ma mancano pochi secondi. Mi ha ingannato l'allenatore della Cremonese che indossava la giacca per andare via ma mancano pochi secondi. Pochissimi secondi probabilmente dopo il rinvio verrà fischiata la fine di questa partita sinceramente e finisce qua. Storico risultato per la Cremonese che ferma il Milan sullo 0-0. Non ci siamo ragazzi, Milan che sprofonda a meno 8. Sinceramente questa squadra deve fare di più con il potenziale che ha. Parliamo della squadra campione d'Italia. Non è possibile per il Milan pareggiare in casa della Cremonese, con tutto il rispetto per la Cremonese. Per loro sarà una grande festa questa sera, per il Milan una grande delusione. 0-0 che porta il Napoli praticamente in fuga. ha più 8 sul Milan e ora si fa dura. Recuperare 8 punti è tosta. Quindi vediamo anche cosa succederà alle spalle del Milan con la Juve, l'Atalanta, la Lazio, il Napoli, scusate l'Inter. Ma andare a meno 8 dal Napoli è tosta. Brutta partita del Milan a Cremona. Davvero è un risultato che lascia l'amaro in bocca. Non ci voleva. Brutta serata.